Cari amici followers, oggi domenica, primo novembre 2015, risveglio abbastanza tranquillo. Questo accade quando i suini dell'Opus Dei mandano la falsa notizia del mio ritorno sulla Terra e questa stronzata momentaneamente li appaga. Una voce adulta ma con intonazione da bambina, quindi l'espressione del male Opus Dei, diceva che se dovessi fare il ritorno sulla Terra, gli umani mi tratterebbero come un Dio e questo non deve accadere, quindi mi devono far sparire qui sul pianeta Sa. Già domani invece prevedo un brusco risveglio, perché questa follia va avanti praticamente a giorni alterni. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi!